Siamo con Guido Abbo, Assessore ai Lavori Pubblici, che spiega l'iniziativa di oggi. L'iniziativa di oggi è un governo che ha incontrato da Rottari su prevenzione del rischio idrogeologico e sismico che è un'importante, insieme a noi come un'interia, il mio Assessorato ai Lavori Pubblici ha parecchi dossier sul tema idrogeologico in particolare, un problema di prevenzione, un problema di riparare magari con calma quanto possibile con le risorse dei danni del passato e soprattutto lanciare una nuova modalità di intervento per il futuro, quindi cerchiamo di imparare, di star sentire lo ce la conteranno agli esperti e di applicarlo nella pubblica amministrazione. Grazie.